Ciao a tutti, io avevo voglia di mangiare anguia, però la mia mamma non c'aveva anguia, quindi se non c'avete a casa, prendete zucchero, poi prendete cecchioro, lo spammate, lo mangiate, poi mangiate, e so di anguia, se vi è piaciuto il mio video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, metete un bel like, ciao, buona visione!